Ciao, io sono Rama, sono qui in Piazza Somma, nella mia città natale, e volevo invitarvi a votarmi per questo premio prestigioso al quale io sono semifinalista, tra i 20 semifinalisti, che siamo stati scelti da circa 1000 persone. Potete andare sulla mia pagina Facebook, io sono Rama, scritto tutto attaccato, e votarmi lì, c'è un link della Repubblica per votarmi per il premio di Andrè. Per me sarebbe un orgoglio, riuscirai ad arrivare alla finale, quindi vi mando un bacio e grazie infinitamente in anticipo. Qual è il tuo progetto musicale? Tu ti sei presentata a questo premio? Come cantautrice, sono una cantautrice, scrivo i miei pezzi, faccio musica quando sono bambina, e ovviamente il mio obiettivo è quello di arrivare sempre più in alto. Come si chiama la tua canzone? Zero Volume, la mia canzone è Zero Volume. Quindi la canzone da votare è... Io sono Rama Zero Volume, con la canzone Zero Volume in gara. Perfetto, allora, sindaco di Somma Visuliana, ancora una volta un'eccellenza di Somma Visuliana che si fa a strada, cioè quindi abbiamo visto, abbiamo letto anche di lei su Repubblica Nazionale, un messaggio finale da parte sua. Bene, noi siamo Rama, tutta la città di Somma Visuliana si deve stringere intorno a Raffaella De Falco in Alte Rama e votarla per questo premio di Andrè, speriamo sia finalista e speriamo vivamente che sia la nostra vincitrice, perché noi vogliamo che le nostre eccellenze escono fuori dalla nostra città e si vantino di essere cittadini di Somma Visuliana. Perfetto.